Eccoci qui, siamo nuovamente in diretta, chiedo scusa per l'inconveniente di prima. Buon pomeriggio a tutti. Ci siamo? Eccoci qui, siamo alla diretta delle 16.30, 5 minuti e iniziamo. Ciao Camillo, tutti bene? La giornata oggi è stata veramente splendida, siamo alla nostra terza settimana. Ciao Lina, ciao Ugo, come va? Dobbiamo prolungare ancora un po' questa chiusura, il crono neanche non va, ciao Camillo. Oggi anche c'è un po' di intermittenza, le linee sono un poco più intraprese. Vediamo chi altro c'è, c'è Adi, ciao Adi, ci metti in diretta sulla nostra chat, ti ringrazio. Oggi quindi siamo all'ultima lezione della terza settimana, dove abbiamo posto le basi, come si diceva anche stamattina. Ormai gli esercizi li abbiamo anche già presi, anche oggi pomeriggio faremo una lezione un po' più sull'intensità. Cerchiamo di prendere coscienza bene di quelli che sono i nostri esercizi e vediamo di aumentarli piano piano in intensità. Abbiamo fatto tre settimane, come ho detto stamattina. Questa è la terza in cui abbiamo posto le basi, abbiamo alzato piano piano l'asticella. La lezione sarà abbastanza dinamica anche oggi, sempre di 40 minuti. Mano a mano aumentiamo l'intensità e cerchiamo di migliorare la qualità degli esercizi. In questo senso qua, stamattina mi era stato chiesto se era possibile invece di fare tre serie uguali 2-1, cioè verrebbe ogni ciclo di esercizi viene fatto in sessioni di tre, soprattutto sull'intensità, in modo che il riscaldamento dell'esercizio e anche la consapevolezza di poterlo fare, mano a mano che aumenta, mano a mano che passiamo al primo, secondo, terzo ciclo, e sento sempre lo stesso movimento e lo stesso esercizio, viene sempre realizzato con una qualità migliore e un'intensità maggiore in questo senso. Farne 2-1 dice mi annoio, ma invece di annoiarci mettiamoci un po' più su di energia nella nostra terza sessione, in questo senso qua. Naturalmente per chi ci ha seguito in tutte queste settimane sa già, sono esercizi che abbiamo sempre fatto, quindi non ci sono problemi, quindi è un'intensità crescente per 40 minuti, mentre chi si collega, perché ci sono stati dei contatti nei giorni scorsi, per la prima volta vadi sulla sua intensità, d'accordo che tutti dobbiamo andare sulla nostra intensità, ok? Vadi sulla sua intensità, se non riesci a mantenere il minutaggio dell'esercizio, può recuperare su un movimento attivo, prendendo respirazione e ripartendo quando noi ripartiamo, in questo senso. Un saluto anche a Melania, un saluto anche a Francesca, quindi sono le 34, un minuto, cominciamoci a riscaldare, Francesca riscalda bene le caviglie, ok? Abbiamo un po' salutato tutti, siamo in 15, ok? Prepariamo, fra un minuto faccio partire il crono e siamo pronti per la nostra lezione del pomeriggio, ok? Respirazione lente profonda, cominciamo a riscaldare le caviglie, respirazione lente profonda, parte il crono, eccolo qui, dei minutaggi, uno, due, tre, eccoci qua. Perfetto, pronti? Vieni, respirazione lente profonda e poi iniziamo con un giro di braccia nel riscaldarci, addominali contratti, glutei contratti, se lavoriamo molti con gli addominali contratti e i glutei contratti li sentiamo proprio alla fine della lezione che hanno lavorato, ok? Andiamo su con le braccia, aumentiamo l'intensità, questo è un movimento di riscaldamento, quindi, ok? Andiamo su, facciamo due flessioni indietro e via, ok? Procediamo con una certa cautela, ci stiamo riscaldando, andiamo a prendere la nostra respirazione, ok? Passiamo alle braccia, portiamole in avanti, sempre con fluidità, rilassati, concentriamoci sulla respirazione, cominciamo a trovare la nostra respirazione ideale, ok? Invertiamo il senso, lasciamci andare al movimento, ci stiamo riscaldando, ok? Via, forza, ancora un po', ancora un po', e poi andiamo verso l'esterno, eh? Questi ormai li abbiamo imparati, ok? Via. Respirazione, cominciamo a trovare la nostra giusta respirazione, addominali contratti per tutti gli esercizi, ok? Adesso mani in alto con coordinazione del movimento delle gambe, ok? Via. Forza, 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 ok? Andiamo in avanti, spingiamo in avanti, spingiamo in avanti, spingiamo in avanti, spingiamo in avanti, via, 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 via. Poi procediamo a riscaldare un po' le gambe, con scalcio in avanti, ok? Prima in destro, sin dietro, sempre con il destro, respirazione, ancora un po', continuiamo alla propria intensità, ok? Bene, cambiamo, sinistro, via, ancora un po', ancora un po', ancora un po', ancora un po', e poi passiamo a stendere una gamba dietro, ok? Via. Forza, più distesa possibile, lavoriamo molto con gli addominali contratti, glutei, ancora un po', ancora un po', ok? Oltra gamba, cambiamo, via, via, forza, 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 e poi partiamo con gli esercizi, in cruci di gambe e braccia su, ok? Via, via, cominciamo, andiamo giù, cambiamo, in su, leggermente la gamba piegata, l'altra distesa, via, 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 ancora un po', ancora un po', ancora un po', ancora un po', ok, ok? Piegamento, via. Aiutiamoci con la respirazione, via, 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 ognuno con la propria intensità, eh, mi raccomando, dai, ancora un po', ci siamo, bruciamo, ok, rilassiamoci un attimo, espirazione, ginocchia alte, alle mani, ok? Ginocchio sinistro, verso mano destra, e ci prepariamo all'esercizio, con gambe divaricate, tocchiamo piede destro su, piede sinistro su, e poi scalcio, uno, due, uno, due, scalcio, scalcio, forza, uno, due, uno, due, cominciamo a trovare il nostro ritmo, forza, uno, due, uno, due, scalcio, scalcio, via, giù, su, giù, su, scalcio, scalcio, forza, giù, su, giù, su, scalcio, scalcio, ok, passeggiata a V, piedi uniti dietro, piedi larghi avanti, forza, espirazione, coordinazione di braccia, forza, via, via, cominciamo a trovare un po' di ritmo, è la prima sessione, proviamo, forza, 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 ancora un po', ancora un po', ok, recupero sul posto, coordinazione di braccia, ripeto sempre, dobbiamo forza, forza, cominciamoci a riscaldare, adesso andiamo, con un piegamento del ginocchio destro, ok, gamba sinistra tesa, e poi scalcio, uno, scalcio, forza, uno, scalcio, forza, forza, facciamolo bene, gamba sinistra tesa, destra si piega, e poi la destra e la destra e la su, forza, via, 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 ancora un po', e cambiamo gamba, forza, sinistra, via, 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 e poi scalcio, giù, e scalcio, giù, e scalcio, ok, recuperativo, portiamo i tabelloni ai glutei, recuperiamo, continuiamo le braccia, ritroviamo la respirazione, e ripartiamo con un altro esercizio, con mani dietro la nuca, ginocchio verso gomito sinistro, forza, via, 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 forza, cominciamo a muovirci un po' meglio, siamo meno legati, via, 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 ancora, ancora, ancora un po', ancora un po', forza, forza, ok, cambiamo, sinistro, via, 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 ognuno al proprio ritmo, intensità, forza, forza, via, 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 ancora un po', via, 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 ancora, ancora, ok, recupero attivo, forza, ginocchio alle mani, anche va bene, vai che va bene, adesso, ginocchio leggermente flesse, pugnetti veloci centrali, siamo pronti, via, cominciamo, con l'intensità, che poi, mano mano, aumentiamo, eh, un po' il gomito spiegato, ginocchio all'intensità, forza, 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 ancora un po', ancora un po', ginocchio piegate, poi, pugnetti centrali, e slancio del pugno laterale, forza, via, uno, due, forza, uno, due, uno, due, ginocchio piegate al centro, e poi mi slancio, forza, coordinazione, addominali contratti, forza, forza, scarichiamo, scarichiamo, aumentiamo un po' l'intensità, forza, forza, via, via, ormai questi esercizi, li sappiamo fare benissimo, troviamo coordinazione, via, via, ok, ok, forza, recupero, recupero attivo, trovate la respirazione, va bene, e adesso, nuovamente, mani dietro alla nuca, ginocchio destro, gomito sinistro, uno, due, scarcio, scarcio, forza, uno, due, via, via, uno, due, via, via, ginocchio sinistro, ginocchio destro, scarcio, scarcio, sinistro, destro, via, via, sinistro, destro, via, via, sinistro, destro, via, via, sinistro, destro, via, via, ok, via, ancora, torsione, tronco due volte, ginocchio a fresse, e poi mi slancio, forza, 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 via, 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 ancora un po', forza, 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 ancora un po', forza, 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 recupero, caviglie dietro, ai glutei, riprendiamo il nostro fiato, respirazione, coordino anche un po' le braccia, ok, se avete bisogno di idratarvi, idratatevi, un po' di recupero, ginocchio adesso verso il basso, il destro va giù, e poi lo alzo su, ok, recuperiamo, uno, due, tre, via, ginocchio basso, sinistro su, via, e ci ordiniamo, via, via, il sinistro va dietro, il destro si abbassa, e si alza, forza, via, 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 ancora un po', via, un altro, cambiamo, sinistro, via, 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 ancora, ancora, via, 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 Ancora. Forza. Un ultimo. Ok. Recuperativo. Abbiamo infiato. Ispirazione lente profonda. Poi incrociamo dietro, verso destra e il busto verso sinistra. Ok. Andiamo. Incrocio. Incrocio. Incrocio destro. Busto sinistro. Incrocio sinistro. Busto destro. Forza. 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 Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po'. Ok. Prendiamo i pesetti. Forza. Via. Uno. Due. Alla vostra intensità. Forza. 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 Destro verso sinistro e sinistro verso destra. Via. 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 Forza. Via. 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 Forza, 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 rilassatevi, rilassatevi, ok, recuperiamo e iniziamo il secondo ciclo, incrocio, adesso sinistro, ok, scopilazione, addominiamo i contratti, siamo pronti, via, uno, vai, vai, vai. Incrocio, 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 aumentiamo un po' l'intensità, adesso siamo in Bunkaudi, forza, ancora un po', aumentiamo un po' la nostra intensità, ok, via, uno, Forza, dai, dai, siamo preparati, dai, dai, che domani è Pasqua, bruciamo un po' di calorie per Pasqua e Pasquetta, forza, 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 ancora un po', Ancora un po', ancora un po', ok, via, via, ripetiamo, ginocchia alte, alle mani, forza di questo ormai è la settimana di base, poi torniamo di nuovo al piede destro, su, piede sinistro, su, e poi scalcio, scalcio, uno, giù, su, giù, su, scalcio, scalcio. Forza, 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 leggermente più intenso, adesso siamo abbastanza sciolti, lavoriamo bene. Forza, 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 ok, ok, forza, cammino a V, via, ordiniamo le braccia, aumentiamo un po' l'intensità, via, coordinazione, addominiamo i contratti, piedi uniti indietro, piedi larghi avanti, a disegnare una V. Forza, 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 via, 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 ok, recuperiamo, sempre recuperativo, ecco qui, respighiamo bene. Adesso il piediamo con il ginocchio destro e scalcio in avanti sempre con lo stesso piede che va giù, ok, quindi uno e scalcio, uno e scalcio, uno e scalcio, uno e scalcio. Forza, 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 via, 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 il sinistro va bello disteso dietro e il destro va su e si piega in giù. Forza, 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 e scalcio, forza, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su. Forza, recupero attivo, la miglia ai glutei, trovo la respirazione, via, non sapevole, forza, poi di nuovo maglia la nuca e il ginocchio destro verso il gomito sinistro, pronti, via, forza, forza. Via, 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 lavoriamo, forza, 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 ancora un po', ancora un po', ancora un po', cambio, forza. ognuno ha la propria intensità cerchiamo di trovare il ritmo mano a mano che facciamo l'esercizio forza favoriamo addominali contratti forza 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 favoriamo forza ancora un po' ancora un po' ancora un po' ancora un po' ok recupero attivo ginocchia le mani forza dai ragazzi dai dai adesso siamo belli caldi aumentiamo il ritmo ugnetti centrali il prossimo esercizio con ginocchia leggermente piegate ok e aumentiamo la nostra velocità forza addominali contratti soffriamo sul posto ok e vado aumento l'intensità aumento l'intensità forza 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 via via ancora un po' forza aumentiamo l'intensità dai 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 e poi pugno centrale due volte ok pugni laterali uno due uno due via uno due uno due via forza 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 via addominali contratti forza facciamoli lavorare via gambe braccia forza 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 voglio aumentare via aumentiamo forza 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 ok recuperiamo recuperiamo attivo proviamo la respirazione forza adesso di nuovo ginocchio sul gomito sinistro poi destro scalcio scalcio dai uno via uno due su su uno due forza forza uno due via via 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 uno due via via, ok, pugni centrali, forza, 1, 2, laterale, via, quando vado sul centrale piego leggermente di ginocchia, fleste, forza, e mano a mano aumento l'intensità, via, 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 ancora un po', ancora un po', ok, forza, forza, movimento delle cadiglie glutei, recuperiamo, forza, forza, recuperiamo, recuperiamo, ancora un po', ok, e adesso un po' di recupero, di gradazione perché si deve trattare, ginocchio destro va sempre, questo va dietro e poi lo portiamo su, ok, recupero, recupero, siamo pronti, andiamo, via, uno, uno, forza, uno, via, uno, via, uno, via, uno, via, uno, via, forza, forza, destro piegato, destro su, destro piegato, destro su, destro piegato, destro su, via, via, ancora un po', via, ancora un po', via, ancora un po', via, ancora un po', ok, cambiamo, andiamo a sinistra, via, 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 via recupero attivo, troviamo la respirazione, addominali contratti, poi rimuovo l'incrocio dietro delle gambe con torsione del busto, incrocio verso destra, busto verso sinistra, ok? via, troviamo sempre maggiore continuazione, lavoriamo con gli addominali, andiamo giù nel l'incrocio, via, 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 un po', ok? Resetti, via, destro, sinistro, forza con una buona intensità, proviamo sempre maggiore flessione del busto, addominali contratti, forza, 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 via, ancora un po', dai, 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 ancora, ci siamo, forza, aumentiamo un po', ancora un po', ancora un benissimo, riposiamo, recupero attivo, ispirazione, recuperate, 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 via, 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 ok, ritardiamoci e ripartiamo con l'incrocio e le braccia su, dai, che oggi è una bellissima giornata, siamo pronti, adesso aumentiamo un po' l'intensità, adesso siamo belli sciolti, pronti, via, uno, forza, forza, destro davanti, sinistro davanti, via, 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 adesso ci divertiamo, dai, adesso ci dobbiamo divertire, forza, ormai abbiamo acquisito tutti i movimenti, tutti gli esercizi, i muscoli sono tonici, caldi, forza, forza, aumentiamo l'intensità, dai, 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 lavoriamo, 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 ok, piegamenti, via, uno, uno, forza, vai, 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 forza, adesso sì che, va bene, dai, forza, 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 aumentiamo la nostra intensità, dai, aumentiamo la nostra intensità e adesso ci divertiamo in quest'ultima sessione, ok, forza, recupero attivo, ok, sempre leggermente più intenso, andiamoci dentro, andiamoci dentro, andiamoci dentro e ripetiamo l'esercizio, giù, destro, su, giù, sinistro, scalcio, scalcio, via, uno, su, giù, su, scalcio, scalcio, via, giù, su, giù, su, scalcio, scalcio, su, dai, dai, ecco qua, forza, coordinazione, intensità, ognuno ha la propria intensità, forza, adesso andiamo da soli perché l'hanno imparato, forza, forza, via, 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 forza, 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 scalcio, scalcio, bene, forza, andiamo a V, camminiamo a V, piedi davanti, aperti, dietro, chiusi, forza, forza, via, via, intensi, intensi, intensi nel cammino, intensi, intensi, forza, dai, 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 ci siamo, dai, ci siamo, dai, sentite, vanno da soli, vanno via, 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 anche il gonfiato stiamo meglio, dai, ok, recupero attivo, anche sul recupero abbiamo un'intensità un poco più veloce, dai, dai, adesso andiamo giù con il destro, il sinistro lo disteghiamo e poi lo scalcio sempre con il destro, ok? Siamo pronti? Via! Su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su. giù, su, giù, su, ok, cambiamo, sinistro, giù, su, giù, su, forza, forza, via, forza, via, 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 forza, forza, vai, vai, ancora un po', ok, recupero attivo, glutei e caviglie e glutei, impariamo, forza, forza, il prossimo esercizio ve lo ricordate, maglia alle nuca e ginocchio al gomito sinistro, via, uno, via, via, aumentiamo l'intensità, forza, 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 ognuno la propria intensità la può aumentare, via, 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 forza, 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 andiamo ragazzi, andiamo, andiamo che adesso ci divertiamo, dai, 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 ancora un po', ancora un po', ok, cambio, via, via, forza, 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 via, 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 forza, forza, che vi vedo tutti quanti, è come se vi avessi davanti ormai, pronti, forza, campi, forza, con la voglia di essere veramente pimpanti, dai, dai, ci riusciamo, dai, nonostante siamo chiusi, riusciamo a tenerci in forma, ok, recupero, teniamo sempre una buona intensità anche sul recupero, ok, ok, e ci prepariamo a scarcare un po' il tutto con i pugni centrali, eh, ok, pronti, via, massima intensità, forza, 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 Spiro, e vado, 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 forza, 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 via, 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 e poi vado sul laterale, dai, 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 ok, ancora un po', via, uno, forza, 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 mi pievo al centro e mi distendo sul lato, forza, 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 addominali contratti, vado su, intensità, andiamo su di intensità, dai, forza, andiamo su di intensità, dai, dai, ancora un po', su di intensità, forza, 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 ok, recuperiamo, dai, oggi come inizio sto sudando anch'io, ok, adesso ritorniamo di nuovo con le mani alla nuca, gomito, gomito destro, gomito destro, gomito sinistro, uno, due, slancio, slancio, via, via, forza, forza, via, forza, via, 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 ok, forza, 1, 2, via, 1, 2, forza, 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 via, via, conseguentimi, dai, forza, aumentiamo, 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 forza, 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 via, via, via. via, 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 ok, caviglie ai glutei, forza, respirazione, cerchiamo anche di coordinare le braccia, via, riprendiamo fiato, riprendiamo fiato, dai, dai, riprendiamo fiato, ancora un po', ok, recuperate i denti, un po', vi vedo bene, vi immagino tutti quanti che siete veramente soddisfatti, dai, che siete soddisfatti, via, andiamo, forza, vi stendiamo il braccio, per un altro po', dai, adesso ci andiamo a rilassare, dai, dai, com'è andata, io sto benissimo, seconda lezione del giorno, un po' di stanchezza l'ho aperto, oggi un po' di stanchezza l'ho aperto, anche perché ho mangiato tardi, ho fatto il risultato oggi di mangiare tardi, mi sono trattenuto più del solito, e oggi ne mi sento, vabbè, una piccola sciocchezza, insomma, poi andiamo a recuperare, ok, 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 va benissimo, gambe, ok, ci possiamo anche appoggiare, portiamo la gamba, oppure ci teniamo in forza, ci possiamo anche appoggiare, o ci teniamo in virico, eh, si può mantenere anche in questo modo qua, ognuno, l'importante è che sia ben piegata la gamba dietro, cambiamo, ecco un po', eccola qua, forza, vediamo la nostra massima estensione, ok, adesso incrociamo, il sinistro va un po' più avanti, e ci portiamo alla nostra massima estensione, ok, il sinistro va un po' più avanti, arrivata alla nostra massima estensione, ci fermiamo un po', senza molleggiare, eh, ancora un po', ancora un po', ok, adesso il destro davanti, sempre l'incrocio, via, arrivo, ancora un po', ok, gambe leggermente divaricate, e vado in massima estensione centrale, ok, forza, arrivo alla mia massima estensione centrale, senza molleggiare, lascio andare anche la testa, non la tenete in tensione, e rimango lì per un po', in massima estensione, ancora un po', ok, passo al piede destro, vado verso il piede, ho la caviglia, massima estensione, non piego le ginocchia, e rimango lì per un po', ok, passo al sinistro, caviglia o piede, massima estensione, sto qui per un po', ok, ritorno al centro, trovo la massima estensione al centro, rimango libero un po', ancora un po', ok, mi rialzo, piano piano, ok, respirazione dentro in profonda, lasciamo andare le spalle verso il basso, addominami contratti, respirazione dentro in profonda, forza, forza, lascio andare le braccia, forza, oscillazione delle braccia, gomiti quasi a 90 gradi, via, via, lascio andare proprio, morbide, 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 forza, mi estraio un po', trovo concentrazione nell'oscillazione, se volete l'accompagno anche con il movimento delle ginocchia, ok, che trovo un po' di oscillazione anche di bacino, come se stessi camminando, sportivo sul posto, ok, e mi lascio andare, forza, forza, respirazione lenta e profonda, respirazione lenta e profonda, ancora un po', ancora un po', forza, 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 rilassiamoci, rilassiamoci e lentamente iniziamo a camminare sul posto con l'avu, quindi piedi davanti, aperti e piedi dietro uniti, lentamente, lentamente recupero e trovo coordinazione, dai, lentamente recupero, recupero, sento proprio che sto benissimo, i muscoli sono proprio elastici, anche le braccia, non avete più voglia di fermarmi, ne sono convinto, ne voleste fare ancora, una bella camminata di una decina di chilometri, forza, 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 ok, ok, asciugatevi, idratatevi, e anche per oggi abbiamo finito la nostra terza settimana, sono qua per ogni vostra domanda, come va, come va, vediamo un po' chi c'è ancora, chi c'è ancora, oh, c'è anche Gabriele, Antonio, Gabriele non ci vediamo da quando abbiamo fatto il corso insieme, si appannano anche gli occhiali come stamattina, ok, allora, come state, tutto bene? Francesca come va? Vedo Francesca, vedo anche Pasquale Petronico, e poi gli altri non li vedo più, tutto bene? Ci prepariamo per la Santa Pasqua, quindi un augurio in famiglia, poi su YouTube troverete già le interviste, per chi non le ha viste in diretta, i nostri istruttori della Federazione Italiana Camminata Sportiva, sono tutti sul canale YouTube Federazione Italiana Camminata Sportiva, e nella settimana prossima rimangono fissi gli appuntamenti del martedì, del giovedì e del sabato, ormai abbiamo posto in queste tre settimane una buona base, settimana prossima facciamo ancora uno step di assestamento, e altro non c'è, tranne che augurarvi una buona Pasqua, a voi e a tutte le vostre famiglie, non vi parlo di alimentazione in questi giorni, cerchiamo di non buttare al vento quello che abbiamo fatto, vi raccomando in questi giorni abbiamo ancora un po' di tempo da stare in casa, mantenete costante la vostra attività fisica, con degli esercizi quasi tutti i giorni, la lezione del giovedì è quella ideale, la lezione del giovedì è quella ideale, e quindi per qualsiasi cosa ci sentiamo come al solito, come fate, su WhatsApp, o per telefono, o sul Messenger, e ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, buona Pasqua, e tanti 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 auguri, ciao ragazzi!